bravo e invece l'hai saltato via tutto subito al contrario è vero che qua non hai il salto ad andare giù ma poi sei più stretto può scendere piano allargarsi eh luigi allora è vero che a saltare giù qui no però lì però sei più stretto qua no però sono stato proprio lento dovevo andare via un attimo più perché oppure senza saltare giù di là va bene qui però allargarsi un po' e prenderla più dritta bene bene Wow. 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 a scendere poi a salire coppi? ah no ho capito doppio quando arrivi lì dai un colpettino che vai già al secondo a scendere poi a salire 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 sembra facile a scendere poi a salire 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 più a salire Un po' di cinema è già partito, adesso ne vedrai dell'altro, non avevo dubbi, tanto ho detto, tanto c'è Stefano che filma, quindi non cazzo, saluto a tutti, ah pure, eh certo, numero uno, bravo, eh ci provo, è che mi dimentico di tenerla ferma, c'è Luigi carico di bestia, ma su 12 zone, andando Grazie.